salve ecco a un nuovo appuntamento con la collaborazione con hobby perline vi vorrei proporre una serie di quattro tutorial dove illustrerò l'esecuzione di semplici lavori al chiacchierino adatti anche alle principianti questo è il primo è praticamente questo bracciale punti giro fatto con queste graziose drops e il filo rosa che in realtà è un tipo di lavorazione molto adatto a chi approccia il chiacchierino perché non è altro che un modulo di archetti adornati da berline che si susseguono uno dopo l'altro fino a raggiungere la circonferenza che ci sembra più adeguata al proprio volso o al tipo di bracciale che vogliamo realizzare come vi dicevo io ho realizzato un bracciale molti giro scusate praticamente ho ripetuto il modulo base che sarebbe questo archetto che presenta un trittico di perline e tre perline separate da due doppi noni che di volta in volta si aggancia si lega al cerchietto all'archetto precedente e quindi non è altro che una successione di archetti consecutivi che si ripetono e quindi capirete bene che è un lavoro molto semplice e adatto a chi vuole iniziare quindi questo è tutto questo è il primo tutorial poi ci saranno altri tre tutorial sempre con un progetto semplice adatto alle principianti quindi andiamo a vedere di che si tratta vi rimando ai materiali a tra poco bene passiamo ai materiali allora innanzitutto avrò bisogno di un filato io sto usando il super long bit cord pink light la misura è 0 50 mm lo spessore è una bobina da 70 metri il codice è sm 22 601 il costo è 2 euro e 90 poi avremo bisogno di perline sto utilizzando queste graziose drops della mi yuki misurano 3,4 mm colorazione white pearl il codice è dp 04 20 il costo è un euro e 25 poi avremo bisogno di anellini sto utilizzando l'anellita aperto argentato da 5 mm diametro 0 8 mm il codice jr 10 181 il costo è 2 euro e 90 poi l'apertura nella chiusura del del nostro bracciale multi giro è questa chiusura ad anello a molle argentato moschettone argento 9 25 da 5,5 mm il codice cl 10 286 il costo è 2 euro 80 e la confezione prevede 10 pezzi poi alla fine della catenella di chiusura del bracciale applicherò queste graziose bolletine dove c'è scritto handmade e sono bolletine a farfalla con su scritto handmade finitura argentata anticata da 13 mm e la confezione prevede cinque pezzi il codice cr16 790 il costo è un euro e 80 per quanto riguarda gli strumenti avremo bisogno di ago da chiacchierino numero 5 questo dipende un pochino anche dalle vostre esigenze insomma potete in alternativa usare il lago da chiacchierino numero 7 se avete la pazienza di tirare via i nodi con pazienza diciamo perché perfetto è lago da chiacchierino numero 5 però se trovate che i nodi sono rimangono troppo voluminosi e in alternativa potete usare il chiacchierino numero 7 naturalmente utilizzando un chiacchierino più piccolo l'uscita dei nodi da chiacchierino un po più difficoltosa quindi valutate voi in base alle vostre alla vostra mano alle vostre capacità quindi dopo l'ago da chiacchierino una forbice un uncinetto che ci aiuterà a fare le legature e un ago sottile con filo da perlinatrici che ci aiuterà a montare le perline sul filo di lavorazione quindi iniziamo il lavoro tra poco ecco allora ho messo nella mia vaschetta le drops un gruppo di drops e ho aperto la confezione del filo il super long e allora dobbiamo inserire sul filo di lavorazione un certo numero di perline naturalmente la quantità delle perline dipenderà dalla lunghezza dell'accetto io ho intenzione di fare un braccialetto molti giri quindi decidete voi la lunghezza in base alla lunghezza ma in base anche alle dimensioni del vostro colso per ora inseriamo un certo numero di perline quindi passiamo sul lago da perlinatrici alcune perline poi spostiamole sul filo di sottile sempre da perlinatrici e ripassiamo lago su tutte le perline ottenendo la cappiolina solita che ci permetterà di passare le perline sul filo di lavorazione inseriamo il filo di lavorazione nella cappiolina e trasportiamo le perline dal filo da perlinatrici al filo di lavorazione e fate questo per tutto il numero di perline che necessiterà per la conclusione del vostro lavoro ci vediamo a fine manovra tra poco bene allora io ho proceduto a montare le perline sul filo di lavorazione nel modo che vi ho fatto vedere poc'anzi e ho infilato lago degli acchierino lasciando una coda abbondante che vi consenta di concludere il laccetto in base alla lunghezza che voi decidete di realizzare sia in base alla grandezza del vostro colso sia al numero di giri che intendete fare attorno alla mano è una lavorazione modulare quindi io vi farò vedere il modulo che poi verrà ripetuto fino alla fine dell'accetto iniziamo però con un cerchio che alloggerà la chiusura del bracciale il cerchio prevede 12 doppi nodi iniziamo con i primi dieci quindi primo doppio nodo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci allontaniamo il filo dalla cuna dell'acqua per agevolare la chiusura del cerchio adesso facciamo un piccolo pipiolino strutturale che servirà all'aggancio dell'arco successivo quindi pochi millimetri perché serve soltanto da aggancio quindi fatto il primo mezzo nodo il secondo mezzo nodo b primo doppio nodo dobbiamo fare gli ultimi due doppi nodi quindi uno e due e adesso possiamo procedere alla chiusura del cerchio tiriamo via il filo dei nodi inseriamo l'ago da ghiacchierino nella cappiolina chiudiamo serriamo il cerchio ecco il primo in questo cerchietto alloggeremo l'anellino che monterà la chiusura di uno schettone poi facciamo un piccolo nodino di chiusura e cominciamo con l'elaborazione del primo arco che è previsto dalla lavorazione sono una serie di archi che montano le perline drops e che si alternano a creare questi semicerchi vediamo come dobbiamo procedere allora giriamo la lavorazione verso di noi e poggiamo l'ago da ghiacchierino al centro e cominciamo ad elaborare due doppi nodi 1 e 2 avviciniamo una prima perlina drops all'ago da chiacchierino e elaboriamo un altro un'altra coppia di doppi nodi 1 e 2 di nuovo avviciniamo una drops e eseguiamo due doppi nodi 1 e 2 ultima drops della serie ed elaboriamo di nuovo una coppia di doppi nodi a questo punto dobbiamo procedere con il pippiolino di aggancio naturalmente piccolo come quello che abbiamo già fatto dopodiché due doppi nodi 1 e 2 poi mettiamo la tripletta di drops che sarà incastonata all'interno dei cerchi delle arcate quindi tre drops avvicinate all'ago da chiacchierino e di nuovo una coppia di doppi nodi 1 a questo punto possiamo chiudere l'arco quindi tiriamo via il filo da tutti i nodi poi inserite nel pippiolino strutturale il vostro uncinetto e procedete all'aggancio tirate fuori la cappiolina dal pippiolino passate l'ago da chiacchierino tirato un po il filo e chiudete ecco il primo archetto questo modulo verrà ripetuto fino alla fine del laccetto del nostro bracciale quindi avrete capito che è molto semplice una lavorazione fresca estiva che vi propongo per le principianti per chi vuole iniziare a lavorare già al chiacchierino e fare già una cosa di senso compiuto avendo pochi rudimenti a propria disposizione quindi sono tutta una serie di archetti che alloggiano i pippiolini e in successione uno dopo l'altro a formare questo lungolaccetto molti giro attorno al polso a questo punto giriamo il lavoro poggiamo l'ago da chiacchierino sulla base e elaboriamo due doppi nodi 1 e 2 avviciniamo la drops e lavoriamo altri due doppi nodi 1 e 2 seconda drops due doppi nodi terza ed ultima perdina e infine due doppi nodi a questo punto facciamo il piccolo pippiolino per la legatura e due doppi nodi quindi la tripletta di drops che verrà inserita all'interno delle arcate adesso poi nel prossimo passaggio vedremo come poi di nuovo due doppi nodi 1 e 2 a concludere il nostro arco quindi tutte le volte avremo questa successione tre perline drops alternate da due doppi nodi un pippiolino due doppi nodi le tre drops conclusive e due nodi finali quindi è molto semplice anche la successione degli elementi tiriamo via l'ago da chiacchierino dai nodi tutto fino in fondo perché sono archi non sono cerchi e ancoriamo il nostro archetto sul piccolino dell'arco precedente che ci troviamo sotto di noi quindi inseriamo l'uncinetto dentro al cappiolino passiamo l'ago da chiacchierino nella cappiolina che otterremo e chiudiamo bene ecco praticamente questa successione di archetti che poi prevede l'inserimento della tripletta nel suo centro sembra molto chiaro ecco procedendo così in questo con questa successione creeremo la lunghezza necessaria a creare il nostro bracciale d'accordo quindi ripetiamo a questo punto volto il lavoro e ricomincio la successione di tre perline alternate da due doppi nodi quindi inizio con i due doppi nodi 1 e 2 passo la prima perlina di nuovo due doppi nodi 1 e 2 passo la seconda perlina che trovi d'attesa vicino al comitolo e ed elaboro di nuovo due doppi nodi 1 e 2 terza ed ultima perlina accosto all'ago da chiacchierino e eseguo altri due doppi nodi adesso dopo la successione di tre perline alternate da due doppi nodi uno dall'altra inserisco il piccolo pippiolino per la legatura e poi ricomincio con i due doppi nodi la tripletta finale di drops che sarà alloggiata nell'arcata che faremo nel giro successivo e i due doppi nodi finali a chiusura dell'archetto che stiamo costruendo quindi primo doppio nodo secondo doppio nodo fine dell'archetto possiamo procedere alla chiusura quindi chiudiamo bene i doppi nodi tiriamolo tiriamo il lavoro aggiustiamo poi la lavorazione e inseriamo l'uncinetto nel pippiolino dell'archetto sottostante tiriamo fuori la gappiolina inseriamo all'interno di questa gappiolina il nostro aggo da chiacchierino e tiriamo quindi questa successione per la lunghezza desiderata creerà il nostro laccetto credo che sia abbastanza semplice non mi sembra ci sia bisogno di ripetere ulteriormente perché il procedimento è modulare quindi voi non dovete far altro che ripetere questi due passaggi all'infinito fino alla fine e ci rivediamo alla fine dell'accetto per la conclusione a tra poco bene ho proseguito con la lavorazione del mio laccetto e ho ripetuto il modulino base tante volte quanto necessitava per raggiungere la lunghezza che mi serviva insomma quindi io ho intenzione di fare un doppio giro di polso e quindi credo che questi centimetri siano sufficienti per poter concludere il mio laccetto io ho realizzato 39 centimetri e naturalmente la lunghezza varierà dal dalle dimensioni del vostro polso ma anche dal numero di giri che pensavate di realizzare per il vostro bracciale io credo di essere arrivata al punto di conclusione adesso devo finire la lavorazione e devo realizzare nella parte opposta dell'accetto lo stesso annellino che ho realizzato all'inizio questo cerchio iniziale alloggerà il cerchietto metallico che aggancerà la chiusura quindi dovrò fare la stessa cosa anche da quest'altra parte e quindi devo realizzare un qui ho fatto due quattro sei otto dieci dodici doppi nodi quindi devo realizzare un cerchio di dodici doppi nodi quindi posizionerò il mio ago del ghiacchierino sulla base dei nodi già elaborati e procedo con 12 doppi nodi 1 e 12 adesso chiudo il mio cerchio tranne che per la parte finale perché dovendo eseguire un cerchio io devo utilizzare la cappiolina finale passo l'acqua del ghiacchierino nella cappiolina e serve il mio cerchio faccio un nodino di chiusura doppio nodino magari così assicuro la fine del dell'accetto in modo più solido e il mio raccetto è concluso naturalmente devo chiudere i fili quindi li devo nascondere e bloccare all'interno dei nodi e lo farò con il sistema di chiusura che vi propongo tramite un link che metterò qui in alto e che vi aiuterà a fare la conclusione la chiusura dei fili e ci vediamo a operazione seguita a tra poco bene ho chiuso i fili vedete due anellini iniziali sono chiusi e ho nascosto i fili all'interno dei nodi e ho concluso il laccetto adesso devo procedere alla montatura della chiusura allora ho già preparato gli elementi che mi servono ho già preparato i miei anellini aperti in modo tale che ho già mi sono vantaggiato con il lavoro e farò una piccola catenella che alloggerò in uno dei due estremi e dall'altra parte metterò il moschettone quindi prendo il primo anellino inserisco il moschettone nell'anellino e poi entrambi sull'anellino di cotone e chiudo l'anellino metallico con un gioco di pizze un'altra parte metà siano perfettamente unite il moschettone ora devo fare una piccola catenella e all'estremità di questa catenella metterò la bollatina dove c'è scritto è molto graziosa con questi anellini farò una serie di chiusure a formare una catenella che poi andrò ad assicurare al nostro laccetto quindi prima nell'ino diciamo una decina di anellini penso di inserire ora poi valuterò la lunghezza a fine lavoro quindi prendo l'anellino lo chiudo con le pinze e vado avanti così prendo l'anellino lo attacco al gruppo già sistemato e poi vado a chiudere l'anellino con il gioco di pinze semplicemente quindi prendo l'anellino lo inserisco nel gruppo e vado a chiudere cerco di unire bene le due estremità modo tale che non sfuggano quelli che già inserisco ecco procedete in questo modo fino alla fine degli anni ci vediamo ecco fatto la mia catenella di anelli di con la volatina alla fine mercendo a mettere l'ultimo anellino quindi inserisco l'anellino nella la catenella e poi nell'anello di cotone del nostro bracciale poi chiudo il nostro bracciale concluso l'anellino il moschettone verrà assicurato a uno di questi anellini per la chiusura e il nostro lavoro è concluso ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto